ciao a tutti ragazzi sono qui per presentarvi come si costruisce questo oggetto il suo nome è red jack e consente di comandare a distanza qualsiasi televisore da qualsiasi smartphone allora ora vi farò vedere come si costruisce con una spesa di circa 1 euro 50 a occorrono due componenti essenziali il diodo da 940 nanometri e il jack che è questo allora per costruirlo basta prendere il diodo posizionarlo sul sulla massa che è il diciamo la parte in ferro più lunga del del coso e tagliarlo in corrispondenza della sua linea bianca ok quindi noi andremo a tagliare i due terminali più o meno qui poi una volta tagliato lo allontano la massa che non occorre e lo inserisco due terminali all'interno non importa la polarità ok andremo a saldarlo e il risultato è questo ora prendendo un altro diodo andremo a collegarlo inversamente al primo cioè mi spiego come potete vedere all'interno del diodo ecco ci sono due parti una più grossa e una più piccola si vede allora noi andremo a collegare la parte più piccola di questo diodo sulla parte grossa seguendo i due terminali cioè in questo modo collegamo in questa altezza poi per renderlo più compatto se volete dovete limare con una lima oppure con la mola il diodo attenzione a non rovinare la parte interna allora facciamo una saldatura veloce una volta polarizzato correttamente possiamo procedere a saldarlo una volta saldato avete questo risultato i due terminali non devono toccarsi occhio ne poi lo piegherete e avete questo risultato per farcelo stare nel cappuccio del jack come vedete non ci passa io l'ho limato ho limato i due diodi vedete lì in mezzo il taglio ecco per poi stringerli e riuscirà a entrare niente questo è il risultato finale spesa totale è intorno all'euro e mezzo e non ci va messo più di tre minuti a farlo ecco con questo è tutto mettete un bel like qua sotto qua sotto vi ho lasciato i due schemi da seguire sono uguali uno funzionale l'altro di montaggio se il video vi è piaciuto mettete un bel like scrivete nei commenti ciò che non avete capito e iscrivetevi al canale per numerosi altri video che posterò in seguito grazie per la visione ciao a tutti